I Cesaroni, una delle fiction italiane più amate, ha lasciato un segno indelebile nel cuore di milioni di spettatori. La serie è pronta a tornare con la settima stagione, ma Matteo Branciamore alias Marco Cesaroni, sarà nel cast? Ecco come ha risposto alla domanda. I Cesaroni, serie incentrata sulla famiglia allargata di Giulio Cesaroni e Lucia Liguori, interpretati rispettivamente da Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci, ha saputo regalare emozioni intense e momenti indimenticabili grazie alla sua narrazione coinvolgente e ai suoi personaggi autentici. Ambientata nel quartiere romano della Garbatella, la fiction raccontava le vicende quotidiane di un nucleo n po' particolare, con le sue sfide, le sue gioie e le sue difficoltà, che rispecchiavano la realtà di molti italiani. La serie ha attraversato sei stagioni, durante le quali il pubblico ha potuto assistere alla crescita e all'evoluzione dei personaggi, creando un legame emotivo profondo con loro. Nonostante i cambiamenti nel cast e nella trama, i Cesaroni sono riusciti a mantenere alta l'attenzione del pubblico, che ha seguito con affetto le vicende di Giulio, Lucia e degli altri protagonisti fino alla conclusione dell'ultimo capitolo. Quest'ultimo sembrava essere quello definitivo. E invece non sarà così. I Cesaroni 7, Marco rompe il silenzio sulla sua partecipazione. Le prime parole. Dopo anni di silenzio, i fan della serie sono stati sorpresi da una notizia entusiasmante. Claudio Amendola ha annunciato l'arrivo di un settimo capitolo dei Cesaroni, confermando che la produzione è già in corso. Ciò ha generato grande curiosità e aspettative tra i nostalgici della serie, che ora si chiedono chi tornerà a vestire i panni degli amati personaggi. Al momento, gli unici due attori confermati per la nuova stagione sono Claudio Amendola, che riprenderà il ruolo di Giulio Cesaroni, e Antonello Fassari, che tornerà a interpretare il simpatico Cesare Cesaroni, fratello di Giulio. Purtroppo, è stata già confermata l'assenza di due figure chiave della serie. Alessandra Mastronardi, che interpretava Eva, e Elena Sofia Ricci, che dava vita al personaggio di Lucia. Per quanto riguarda gli altri membri del cast, c'è ancora molta incertezza. Matteo Branciamore, che nella serie interpretava Marco, il figlio di Giulio e uno dei personaggi più amati, ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa. Sebbene non abbia voluto confermare o smentire la sua partecipazione alla nuova stagione, una cosa l'ha dichiarata, ha ammesso che un ritorno dei Cesaroni non sarebbe una cattiva idea, anche se comporterebbe un rischio, dato l'alto livello di aspettative del pubblico. Con queste premesse, il ritorno dei Cesaroni si preannuncia carico di emozioni e di sfide. Sarà interessante vedere come la serie riuscirà a rinnovarsi mantenendo intatta l'essenza che l'ha resa un successo per tanti anni. I fan, intanto, continuano a sperare in un cast ricco e in una trama che sappia risvegliare i ricordi, ma anche sorprendere con nuove avventure.